La procura di Venezia ha indagato Filippo Turetta per tentato omicidio. È stato comunicato attraverso una nota diffusa in mattinata. Per non lasciare inesplorato alcuno spunto investigativo, si legge, sono state disposte anche alcune perquisizioni. Si poteva ipotizzare anche l'iscrizione a notizia di reato di un'ipotesi delittuosa. Sulla scelta dell'ipotesi evidentemente ci lascia ancora delle speranze di poter avere una buona notizia e quindi voglio ancora sperare. Ringraziamo perché anche evidentemente l'attività di indagine sta portando anche a dei risultati, che è una cosa di cui la famiglia ha anche bisogno, come dicevo ieri. Fondamentali, come è stato ribadito più volte in questi giorni, le immagini riprese lungo la quinta strada nella zona industriale di Fossò, dal sistema di video sorveglianza dello stabilimento di Dior. Si vede Filippo che aggredisce Giulia sabato sera. C'è una collutazione. La colpisce a calci, mentre lei è a terra e grida mi fai male chiedendo aiuto. Poi lei tenta di fuggire, ma Filippo la insegue con l'auto e quando la raggiunge la colpisce alle spalle spingendola, facendola cadere a terra e provocando le ferite profonde, tanto da farla sanguinare abbondantemente. Perde conoscenza. A quel punto Filippo la carica in auto e si allontana. Da quel momento non c'è più traccia dei cellulari e l'auto verrà ripresa dopo poco più di un'ora a zero branco, dove sembra fermarsi alcune ore. L'iscrizione nel registro degli indagati del 22enne anche a sua garanzia, si legge nella nota della procura, per permettere di eseguire accertamenti irripetibili proprio sul sangue trovato a Fossò, i capelli e lo scotch repertati nella zona lunedì mattina. Il procuratore Kerkhi esclude invece che il brandello di abito raccolto a Santa Maria di Sala sia legato alla scomparsa dei ragazzi. Gli elementi, ha dichiarato, dicono che c'è stata un'aggressione e una scomparsa, ma la nostra speranza è che la ragazza sia ancora viva. La stessa speranza che ha la famiglia Cecchettin. È un'attesa molto, molto, molto snervante e anche perché chiediamo che ci siano dei risultati a breve, ma su questo, ripeto, non voglio andare oltre perché abbiamo visto un dispiegamento di forze quasi senza precedenti, e quindi ne prendiamo atto, come ho detto lo apprezziamo, ma certo la preoccupazione è sempre maggiore evidentemente perché ad oggi non sappiamo nulla di certo, nulla di dove possa essere Giulia e nulla della genesi di questa storia. Ancora nessun esito invece sulle analisi delle chiazze di sangue ritrovate a Fossò e per cui sarà affidato la prossima settimana l'incarico al medico legale, cui potranno partecipare anche i legali di Filippo Turetta con i propri consulenti tecnici e quelli di Giulia Cecchettin.